Il mercato azionario, i mercati finanziari e tutti noi che siamo interessati a questo mondo stiamo aspettando la Fed. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. E quando è che non aspettiamo la Fed? Quindi nei prossimi giorni, esattamente da domani per i prossimi tre giorni, direi che poi tutto andrà a culminare venerdì su dati molto particolari come esempio l'inflazione dei consumatori privati, dei cittadini americani, quindi dei consumi personali, no? Parliamo dell'indice CPE e beh poi tutto andrà a culminare con il discorso di Powell e quindi rimaniamo sintonizzati. Beh, molti si aspettano tragedie, discorsi durissimi, aumenti dei tassi come se non ci fosse un domani. Beh, diamoci una calmata, keep calm, cerchiamo invece di essere razionali. Sapete che qui sul mio canale mi piace andare un po' in controtendenza, ovvero se le cose vanno male e tutti quanti cominciano a parlare di fine del mondo e cavalcano il trend, no? Se le cose invece vanno bene, tutti quanti iniziano a parlare di miliardi, ci arricchiamo abbastanza facilmente e siamo in euforia. Invece cerchiamo quelli che possono essere dei punti, degli spirali di luce positivi nei momenti un po' di difficoltà e magari invece cerchiamo di essere un po' più allarmati nei momenti di troppa, di eccessiva euforia. È quello che cerco di fare e quindi anche oggi cercherò di non andarvi a deludere. Pertanto, se volete sostenere qui il mio lavoro sul tubo, io vi chiedo un'iscrizione al canale e di lasciare un bel like. Ora vi vado a condividere lo schermo del mio computer. Dunque signori, come vi dicevo nell'introduzione del video, siamo tutti quanti in attesa del discorso della Fed nei prossimi giorni, quindi si trarrà questo simposio a Jackson Hole nel Wyoming. Poi se siete curiosi, andate a studiare su internet come mai ogni anno hanno scelto questa località dove riunirsi e parlare di economia e di interessi mondiali, sempre a livello economico, insomma. E guardate qui Jackson Hole, ragazzi, insomma, io credo che sia un posto abbastanza tranquillo fin troppo, mi penso che mi annoierai veramente tanto ad abitare qui. 10.000 anime in mezzo al nulla. Ora andiamo a vedere un po' l'SMP 500 e poi ci addentriamo nel vivo del video. Infatti qui abbiamo detto che bisognava assolutamente osservare uno storno e adesso ha sentito questa prima zona di supporto ed effettivamente io credo che sia in attesa questo indice. Quindi prese di profitto e quello che ci si aspetta da tante parti è una continuazione poi del crollo. Sapete c'è tanto pessimismo. D'altronde sono molte le ragioni a sostenere tutto quanto ciò ma abbiamo un po' una moda, no, quindi voglio dire nei periodi di massima espansione in cui tutte quante le cose vanno bene, diciamo che tutti parlano di euforia, di fare miliardi, nei periodi in cui le cose vanno un po' male è la fine del mondo e così si accumulano ascolti. Allora noi invece cerchiamo di, o visualizzazioni, di essere un po' più obiettivi, di essere molto razionali. Quindi andiamo un po' a vedere questi dati e io, ma da persona razione cosa dovrei aspettarmi? Ovviamente non lo so, ma non credo che Powell, non credo che la Fed ci vada giù pesantissimo nel suo discorso. Io credo che loro cerchino un equilibrio. Ora vediamo questi dati e poi mi vado veramente a spiegare meglio. Vediamo un po' qui innanzitutto a livello di mercati finanziari abbiamo un posizionamento abbastanza negativo, no? A predominio di orse, diciamo, come sentiment sul mercato. Se abbiamo qui l'S&P 500, il posizionamento, quindi vediamo i vari asset managers, net position, quindi anche i leveraged funds. E quindi vediamo se siamo sotto zero, quindi vi è un posizionamento a prevalenza bearish. E pertanto più troviamo questi posizionamenti e più poi si escono notizie negative, l'S&P 500 e può, e quindi poi si trascina presso solitamente tutto quanto il mercato, rimbalzare, andare verso l'alto perché non solo gli operatori iniziano a investire, non solo potrebbe esserci un cambio di sentiment, ma tutti quanti coloro che stanno cercando di mantenere una pressione ribassista a quel punto devono ricoprirsi, chiudere le loro posizioni e quindi acquistare a loro volta l'S&P 500. Ecco perché a volte assistiamo a delle accelerazioni verso l'alto o verso il basso dell'indice, quindi anche ad un aumento di volatilità. Tutto dipende dalla speculazione oppure dal fatto che qualcuno deve chiudere non solo pressioni speculative, ma anche quelle che dovevano essere delle posizioni per proteggersi e dopo invece rischierebbero di trovarsi in pericolo. Vediamo anche qui, se andiamo a studiarci il CFTC S&P 500, il non commercial net position, vediamo come siamo negativi, sotto zero e quindi il sentiment dei trader, degli investitori, dei non commerciali, dei gestori, dei fondi eccetera, non è sicuramente positivo. Vediamo anche qui il consensus per quanto riguarda la recessione, lo vedete come è alto, è elevatissimo. Apparente ci troviamo vicino ai massimi storici, vediamo questi dati semplicemente nel marzo del 2009, li vediamo anche nell'aprile del 2020, ora li vediamo nell'agosto del 2022, quindi quello proprio che è il sentiment sulla recessione, ma vi viene in mente qualcosa? Minimi di mercato, marzo 2009, abbastanza vicini ai minimi di mercato per il 2020, qui l'abbiamo raggiunti a marzo del 2020 e chissà ora dove ci troviamo, vedremo, vedremo. E tutto quanto questo per dirvi che cosa? Beh andiamo avanti, poi troviamo le nostre conclusioni e perché è probabile che magari non sia così aggressivo nel proprio discorso, Powell, nei prossimi giorni, quindi tutto sommato il mercato accetta le sue dichiarazioni e rimanga tranquillo, invece magari di accelerare chissà verso il basso, questo non lo sappiamo. Dobbiamo vedere quello che ovviamente è alla base di questo ragionamento, vi andrò assolutamente a soddisfare, però dovete prima seguirmi su questi dati. Qui cosa notate? Beh un altro indizio di indebolimento economico, no? Che cos'è? Che cos'è questo grafico? Beh, la riduzione delle new USA home sales e quindi vediamo che le nuove case e le vendite negli Stati Uniti d'America stanno crollando, no? Quindi è il peggior dato praticamente dal 2016. Andiamo ancora avanti, guardate qui la disponibilità di appartamenti e guardate l'aumento, vedete? Si trova sui massimi praticamente dagli anni 70 ad oggi. Tutto quanto questo, in cosa si può andare a tradurre? Beh, sicuramente voi immaginate anche ad esempio una riduzione degli affitti, una riduzione del prezzo delle case. E questo va a partecipare a una riduzione comunque generale dell'inflazione. Sono tutti quanti quei dati che noi vogliamo vedere che segnano un raffreddamento dell'economia. Se noi osserviamo un raffreddamento, se abbiamo tanti dati, no? Immaginate la Fed che è a sua disposizione, no? Chiaro sarà, non passa avanti rispetto a noi. E vanno a leggere un quadro economico in cui vi ha un raffreddamento di tutti quanti i dati macroeconomici e quindi anche dell'inflazione. Beh, non necessita a quel punto di andarci giù pesantemente. Come mai? Perché dopo creerebbe uno scompenso, uno squilibrio, uno shock economico. Non vogliono distruggere l'economia, il loro lavoro non è questo, ovviamente. E quindi guardiamo anche qui questo indice. Che cos'è? È relativo ai servizi. Volevi vedere il crollo che vi è per quanto riguarda questo indice? Cioè, quindi anche tutto il settore dei servizi non se la sta passando alla grande in questo esatto momento. Un altro fattore di indebolimento economico e di raffreddamento. Allo stesso tempo però abbiamo visto che si trovano ben posizionati i lavoratori. Quindi direi che è quello che vuole vedere la Fed. Massimo massimo equilibrio. D'altronde, se avesse visto ancora dei dati in espansione o se avesse osservato un mercato che non voleva stornare, non voleva ritracciare ma spingeva senza l'alto come se non ci fosse un domani, beh, probabilmente nello discorso sarebbero andati veramente giù in maniera pesante. Perché non vogliono assolutamente vedere adesso dei dati troppo in espansione. Quindi io ho cercato questa parola qui su Google. Solente tanto esce sempre qualcosa. Migliardi di persone vedono che qualcuno non si vada a inventare una scritta o un meme o un disegno. Qui qualcosina ho trovato, no? Quindi ho scritto Powell, Federal, e poi Tightrope Walker. Significa funambolo in inglese. E quindi è il suo lavoro. Lo sto dicendo da alcuni giorni. Secondo me è una analogia perfetta, cioè cercare l'equilibrio. Ogni volta che si vede un qualche dato, un'accessiva foria sul mercato, o dati macroeconomici che spingono troppo verso l'espansione, e quindi anche un sostegno potenziale dell'inflazione, gli esponenti della Fed devono dire che ci andranno giù pesantemente. Ogni volta che invece si vede che il quadro economico sta cominciando ad assumere quel trend che desidera la Fed, e quindi si va in debole l'economia, beh, non c'è più bisogno di andarci giù così pesantemente, perché altrimenti si farebbe troppo male al mercato. Quindi è soprattutto anche poi l'economia reale. Pertanto vediamo se manterrà questa sorta di equilibrio nelle dichiarazioni dei prossimi giorni. Abbiamo detto che poi venerdì, oltre alle sue parole, prima uscirà anche il dato relativo alla CPE, cioè proprio all'inflazione relativa ai consumi personali dei cittadini americani. Vedremo se questo dato magari ci aiuterà. Se vedremo un indebolimento lì anche di poco dell'inflazione, sono sicuro che... Cioè, sicuro, oddio, un parolone ragazzi, eh, non possiamo mai essere sicuri sul futuro, ma sono abbastanza confidente che le sue dichiarazioni non saranno così pesanti come tutti quanti immagino. Potete sempre sbagliarmi, l'importante è essere pronti comunque a qualsivoglia scenario. Bene ragazzi, rieccomi di nuovo qui a schermo, fatemi sentire la vostra, quindi tramite i vostri commenti. Che ne pensate? Cosa dirà Fed? Beh, magari ce ne importa anche poco, no? Magari a dire il vero, se siamo già ben posizionati e se abbiamo le nostre strategie. Quella è la cosa ovviamente che conta di più, però bisogna sempre rimanere in contatto con quello che succede nel mercato, d'altronde il nostro argomento, il nostro interesse e la nostra passione, altrimenti non ti troveresti qui sul canale. Quindi è bello anche discuterne insieme e vivere questo periodo storico complicato, ma interessantissimo per aumentare la nostra esperienza e la nostra consapevolezza. Io vi do appuntamento a prestissimo, vi auguro il meglio nella vita degli investimenti. Ciao!